In questo appezzamento sei da circa dieci giorni con i tuoi animali, sono circa sei ettari di terra e obiettivamente sembra come nuovo, gli animali stanno mangiando, sono pieni ma non ci sono zone pelate o vegetazione sofferente o sparita, tranne alcuni punti come questo qui. Come mai? Qual è il motivo? Allora qui vediamo un esempio di alta densità veicolata ad aumentare la produttività. Cosa significa? Ci sono alcune zone in cui ci può essere presenza di ginepro o alcuni cespugli comunque legnosi che chiaramente gli animali non mangiano. Questa è una tecnica che si usa quindi per riportare l'erba dove non c'è più. In che modo? Aumenta veicolando la densità degli animali in un punto preciso. Lo possiamo fare attraverso lo stesso punto di abbeverata oppure la somministrazione di sali o integratori da leccare. Gli animali si recheranno lì insieme o comunque spesso e avremo quindi sia un effetto calpestio deleterio per le piante cespugliose ma anche andremo a spostare l'equilibrio dalla prevalenza di carbonio alla prevalenza di azoto. L'azoto favorirà la produttività dell'erba, favorisce la parte fogliosa comunque della pianta e quindi questa lo possiamo usare come tecnica per riportare in produzione zone di prato che non lo sono più diciamo in maniera naturale. Quindi io posso mettere qui la mastella di colsale per esempio e qui mi ritrovo un cerchio più o meno di una decina di metri di diametro completamente coperto di letame a vari strati. Qui vediamo dopo ci sono le diverse fasi del recupero. Qui abbiamo una prima fase dove non vedo più copertura vegetale. Poi avremo all'inizio un aumento del colore verde dell'erba rimasta sul perimetro diciamo nella zona sommitale. Dopo o in presenza di piogge oppure ma il grosso dell'effetto lo vedo l'anno successivo avremo un aumento in densità dell'erba e la scomparsa della pianta lignosa. Quindi andremo a riportare in produzione ma non solo aumentandola di quella particolare zona. Qui vediamo abbiamo una panoramica del pascolo di una buona parte del pascolo dell'alpeggio e vediamo come l'incrocio ambiente animale abbia un effetto formidabile. Qui abbiamo delle zone mai pascolate, delle zone pascolate con un pascolo continuo e delle zone pascolate con un pascolo recintato per una, due o tre volte. Nella fattispecie abbiamo il recinto, abbiamo questo recinto fisso che è quello più alto dove sono già state fatte, gli animali sono stati qua già tre volte da inizio stagione, quindi una rotazione già di tre giri di pascolo. La zona sotto a questo recinto fisso che è stata pascolata con un recinto mobile è stata pascolata solo una volta perché è stata una concessione inizio stagione ma nonostante è bastato una volta per arrivare a fine settembre con l'erba veramente verde ancora. Il recinto sottostante a questo due volte è stato pascolato dove vediamo sì l'erba più curta ma un verde carico perché gli animali hanno portato tanto azzotto e questi prati con un grande apparato radicale e prati di anni e anni e anni rispondono veramente in maniera poderosa alle stimolazioni degli animali. Qui sotto invece c'è un grande displuvio invece molto giallo. Qui gli animali sono stati? Questo non è mai stato pascolato quindi abbiamo lo stesso campo possiamo dire dove quindi stessa piovosità eppure la parte di destra e verde è quella di sinistra e gialla. Semplicemente la parte di sinistra l'erba ha compiuto il suo ciclo vitale è arrivata alla fine, ha spiegato e arriva a morte e ricomincia a crescere solo l'anno prossimo.